Siamo a Savignone in occasione oggi dell'edizione 2016 dedicato premio Pippo dei Trille e siamo proprio in compagnia di Vladi, il figlio di Pippo Bene, bene, buongiorno, buonasera direi, buonasera, siamo quasi arrivata la sera e insomma il tempo ci sta facendo un po' tribolare, nel senso che è appesa lì ma speriamo che sia magari la classica buraschetta estiva e si possa iniziare in musica Quali sono i cantanti che partecipano a questa edizione 2016? L'elenco è lunghissimo, spero di non dimenticarmi qualcuno però i premiati sono i Delirium, storico gruppo prog rock genovese la Roberta Loisio, Nicolo Pagliettini, presenterà Daniele Racco e verrà a trovarci Enzo Paci, che è una graditissima sorpresa partecipano inoltre i Luassi, Denise Misseri, Andrea Cosso, Valentina Canziani, Massimo Morini dei Buio Pesto, è un elenco molto molto lungo questo proprio per ricordare tuo papà ma scampioni, vedi poi si vengono in mente nel durante sì per ricordare papà chiaramente lui è sepolto qua nel cimitero antistante ha vissuto tantissimi anni qui con me e soprattutto questa Valle Scrivia lo lega a tantissimi ricordi lui ha vissuto qua a lungo tantissime frequentazioni, amici serate di festa, di allegria e quant'altro e in questi giorni su online c'è la petizione proprio per nominare una via di Genova a tuo papà e a Pucci sì, questa è un'iniziativa presa da Daniele Racco insomma per me sarebbe un sogno poterli ricordare degnamente visto che hanno dato tanto alla musica, in particolare a quella genovese e sono riusciti anche a portare fuori dai confini regionali il loro percorso artistico riconoscimenti a vario titolo e hanno lasciato un segno importante soprattutto nel cuore di noi liguri, di noi genovesi quindi perché no ricordarli magari con un viale, una piazza o in qualsiasi situazione all'interno della nostra città sarebbe una cosa bella e anche qua a Savignone pensi che un domani ci sarà una via Pippo dei Trilli? Guarda, sì, qui nello specifico proprio una via sarà dedicata a mio padre grazie ad Antonio Bigotti, sindaco del paese che da vari anni ha fatto promessa per quanto riguarda questa iniziativa e beh, niente, sarà un riconoscimento importante che papà penso che anche da lassù gradirebbe tantissimo visto che è amante di questi posti di Savignone E poi sarebbe anche un ricordo proprio per questi nostri artisti che sono scomparsi così prematuramente Sì, assolutamente papà aveva 58 anni, Pucci ne va 54 hanno lasciato un voto importante artisticamente e anche per chi l'ha conosciuto personalmente e anche umanamente quindi sì, penso che ribadisco sia un tributo dovuto ecco, il loro ricordo Grazie, Vladi, di essere nostro ospite a Radio Azzurro 88 Rete Liguria Grazie a te, Paola come sempre molto carina e sempre presente dove ci sono i Trilli Grazie a tutti Ciao